Ciao a tutti, siamo qui dall'amico Mario, siamo qui dall'amico Mario, siamo venuti alla base, abbiamo finito alle 3 e siamo partiti alle 5 Allora spieghiamo però, siamo partiti da Napoli e siamo arrivati direttamente da Mariuccio, direttamente Aspetta facciamolo vedere, arrivo da Napoli che cazzo ti aspetta, allora primo classificato freestyle, eccolo qua, Giorgio Nazier grande e poi abbiamo primo classificato, pizza larga, ci manca quello di Antonio Mezzero del trofeo Caputo, diciamo la più significativa, ci manca quello di Antonio Mezzero del nostro gruppo, ecco qua i campioni, i campioni, stanchi ma non si molla, distrutti ma siamo ancora qua E poi c'è Paolo, guarda che, sempre in formissimo, guarda, mi devo un'occhiata alla parovigio, si si si, Lorenzo, e Mario Petro, e Mario Cipersone, ci mancasse che mancasse di Mario Cipersone Vabbè, oggi facciamo un po' di bordone, facciamo un po' di bordone come sempre, noi ci riposiamo un'orezza, è stanco, è stanco, è stanco, è stanco Sì, cotti ma non si molla mai, fino alla fine, fuori servizio, fuori, un saluto a tutti e buona giornata, ciao, ciao, ciao a tutti, ciao, ciao